Signor Gourmelon, dalle analisi che abbiamo effettuato risulta che Bastian Gourmelon non è suo padre biologico. Mi dispiace. Ne parlerai con il nonno? Non sei curioso di sapere chi è tuo padre? Ne ho già uno, mi basta. Beh, se penso a quanto hai insistito perché ritrovassi il suo. Asci con una? Buonasera. Lei che lavoro fa? Faccio lo sminatore. Sminatore di cosa? Sminatore di bombe. Di bombe. Ho identificato e rintracciato il suo papà. Ha conosciuto mia madre il 23 giugno del 1970. Mi ha invitato a bere un caffè per scoprire se sono suo padre. Papà? Ha una figlia? Non dirle niente, ti prego. Mia figlia Anna è Ruan Gourmelon. Ma guarda. Ma lei è bloccato con le donne? Ah, no, perché? Una volta che si sente il click... Stia a vedere. Ha un palloncino? Che cosa stiamo facendo? Beh, facciamo quello che si fa quando un uomo porta una donna a cena al ristorante. Le basi, cavolo! È l'ABC! Mi dispiace. Per un bambino è importante sapere chi è suo padre. Secondo lei, suo padre è un tipo a posto? Perché le interessa mio padre? È gerontofilo per caso? Che cosa sembrava! Grazie a tutti.